Sviluppo sostenibile, intelligenza artificiale e capitale umano. Perfetto, come possiamo unire queste tre tematiche così importanti ed estremamente attuali senza dimenticare l'importanza del capitale umano? Allora, il capitale umano è la chiave di tutto. Se ci pensa la conoscenza di cui è portatore il capitale umano è quella che ha dato origine e fa sviluppare l'intelligenza artificiale e d'altro canto è anche alla base del sviluppo sostenibile perché lo sviluppo sostenibile è economico, sociale ed ambientale. Di nuovo c'è sempre l'uomo come chiave, il nostro capitale umano. Chiaramente si tratta di cercare di equilibrare aspetti, di mettere in equilibrio aspetti che sembrano sfide, che sembrano essere inconciliabili. Come diceva, se noi pensiamo a intelligenza artificiale e capitale umano molto spesso ci viene detto che non sono tanto conciliabili, che l'intelligenza artificiale in fondo andrà a sottiantare grosso parte del capitale umano. In realtà non è così. È chiaro che ci vuole un'evoluzione del capitale umano perché l'intelligenza artificiale deve essere adeguatamente utilizzata, deve essere adeguatamente sfruttata. Lo sospetto le competenze devono evolvere per poter farsi appunto che si crei questi equilibri, soprattutto una valorizzazione che è del capitale umano, dell'intelligenza artificiale in un'ottica, perché in realtà tutto questo va racchiuso nello sviluppo sostenibile. Quindi cercando di perseguire sempre benessere economico insieme a benessere sociale, insieme a quello che è il rispetto e la valorizzazione nell'ambiente in cui viviamo. È chiaro che sembrano inconciliabili, lo sono nel breve, perché non si può ottenere tutto nel breve. Bisogna avere quindi una prospettiva, una visione di lungo periodo ed è su questo quello su cui noi ci interroghiamo. Quindi l'università è parte integrante di questo processo attraverso l'evoluzione nella formazione del capitale umano. E sulle competenze, assolutamente sì. Prima è intervenuto il nostro rettore, il professor Gianluca Gregori, che diceva come nel nostro Ateneo, per esempio, i corsi di studio sono passati negli ultimi 5 anni da 50 a 75, creando corsi di studio che sono proprio coerenti con quello che è il contesto attuale, il contesto socio-economico attuale, ma anche nella prospettiva futura. E quindi cercando, per esempio, di fare qualcosa che in passato non si faceva, cioè quello di creare delle competenze che siano transdisciplinari, quindi che concilino, per esempio, quella che è l'intelligenza artificiale con quelle che sono, per esempio, le nuove discipline o corsi di laurea, appunto, che sono orientati sempre verso la sostenibilità. Quindi lo sviluppo delle competenze e l'università fa proprio questo, sviluppa competenze e sviluppa conoscenza. Anche non dimentichiamo la parte della ricerca, che è fondamentale, e della diffusione della ricerca nel territorio, perché questa è l'altra terza missione fondamentale dell'università. Noi creiamo conoscenza, la conoscenza poi la trasferiamo a quelle che sono gli studenti, quindi i futuri laureati, i futuri lavoratori, ma poi allo stesso tempo trasferiamo anche le nostre conoscenze nel contesto socio-economico perché vengono utilizzate.